O cabalante porta il cavale dalla risa e vogliamo partire, vogliamo partire, vogliamo arrivare fino a Marcelli alla stazione, vogliamo partire, vogliamo arrivare fino a Marcelli alla stazione, quando saremo alla stazione che confusione che ci sarà, quando saremo alla stazione che confusione che ci sarà, o macchinista accendi il carbone, quel macchinone farò volare, o macchinista accendi il carbone, quel macchinone farò volare, farò volare come un diretto, a casa presto vogliamo andare, farò volare come un diretto, a casa presto vogliamo andare, a casa nostra, non si paesi, si a farinesi casa si va, a casa nostra, non si paesi, si a farinesi casa si va, dove te vedo Mariettina, 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 Io vado a fare la campagnola, si volo al mezzo guarda. Io vado a fare la campagnola, si volo al mezzo guarda. In mezzo a traccia e la luciata, in mezzo a traccia e la luciata. In mezzo a traccia e la luciata, in mezzo a traccia e la luciata. La città n'era scusa. Scusa lì mi è già bagnato, scusa lì mi è già bagnato. Scusa lì mi è già bagnato, sotto l'ombra di un metro. Scusa lì mi è già bagnato, sta nati in mezzo a traccia. Il sabato di sera, ad la monta del sole, fondarsi la bella batacchia sull'anno maggio. Fondarsi la bella batacchia sull'anno maggio. E mentre che fondavano i quattro malinari, le tre belle belle ragazze, con le mano salva. Le tre belle 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 ragazze, con le mano salva. E salva la prima, e salva la seconda. La testa n'era scusa. E salva la prima. La testa n'era scusa. E salva la prima. E salva la prima. E salva la prima. a cento pene ed alpino ne ha una sola il partigiano ne ha nessuna per strassi un monte a quelle già il partigiano ne ha nessuna ma è strassi un monte a quelle già la sui monti c'è una neve la porfera dell'inverno ma se venisse anche l'inverno il partigiano rimanda su ma se venisse anche l'inverno il partigiano rimanda su quando poi per ritoccare non ci accettano del calcone è che se libero un uomo muore che cosa importa di morir perché se liberò un uomo muore che cosa importa di morir non ci accettano 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 ma non ci accettano non ci accettano non ci accettano ma non ci accettano 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 le Grazie.